Salve a tutti! Per la sezione recuperi elettronici oggi andremo a smontare un aspirapolvere. Quindi come sempre andremo a vedere cosa c'è al suo interno e che cosa si può recuperare. Ho smontato l'aspirapolvere ed ecco come si presenta al suo interno. Abbiamo il motore con il condensatore di rifasamento, abbiamo anche il filtro EMI abbastanza grosso, poi un interruttore e basta. Questa è l'aspirapolvere, solo questi componenti. Ecco qui cosa abbiamo recuperato, ovvero una presa lunga più o meno 5 metri, quindi c'è un bel valore qui. Poi c'è questo interruttore con sensore di contatto, ok il condensatore, è un condensatore da 0.33 mF, MPX da 275 volt. Anche questo è ottimo per portare grosse correnti e poi ci sta questo filtro EMI. Questo filtro EMI è un filtro di modo comune per le alte frequenze e in effetti non lo avevo qui in laboratorio e tornerà molto utile in futuro. Mentre qui c'è il motore. Questo motore è di grande valore, ma molto spesso vedo che è sottovalutato. In futuro faremo qualche progetto con lui. Di solito non vengono utilizzati perché vanno ad altissimi giri. Ma in futuro farò un video dedicato su questo tipo di motori e come customizzarli. Molto bene, quindi qui abbiamo recuperato qualcosina di valore e nulla, quindi in generale degli aspirapolveri si può recuperare questi oggetti qui. Sono strumenti molto molto semplici, quindi di elettronica c'è ben poco. Molto bene, per questo video è tutto. Alla prossima!